Portoreggio a canestro, come Manu Ginopili, come Ginopili Parliamo di Pallacanestro Viola, come abbiamo detto in anteprima do il benvenuto a Matteo Chiuto, che insomma scrive giornalmente di Pallacanestro Viola è un momento ovviamente complesso, un momento di alti e bassi a cavallo del 2021-2022 ben trovato Matteo, che idea ti sei fatto di questa anatagonistica innanzitutto un tuo mini bilancio di quello che sta accadendo in questa seconda stagione in Serie B per la Pallacanestro Viola Ciao Giovanni, ovviamente grazie per l'invito e tutti coloro che ci stanno ascoltando ma un bilancio che secondo me ancora non è definito perché pur essendo a metà stagione ancora forse non si è capito bene il valore di questa Viola perché ci sono state delle cose che si sono viste che sono state molto buone soprattutto mi riferisco magari anche alla reazione al momento negativo che c'è stato a dicembre chiaramente questa sconfitta a Salerno lascia un po' perplessi non tanto per aver perso il campo della terza in classifica che secondo me ci può stare anche perché ti mancavano due uomini fondamentali come Barrile e Lazzari per quanto riguarda le rotazioni mi ha fatto strano però l'atteggiamento e la partita in sé di alcuni giocatori mi sono apparsi a volte in determinate giocate anche molli per quanto riguarda la resa proprio tecnica quindi bisogna capire quale sarà lo sviluppo di questa seconda parte di stagione noi siamo bravi a dare gli aggettivi molto spesso io ho scritto forse evanescenti quindi condivido la tua analisi però sinceramente è stata una delle più brutte partite dell'anno senza ombra di dubbio è chiaro che a Salerno tradizione insegna è molto complicato fare pallacanestro e lì hanno pescato molto bene tutti i gironi pescando giocatori magari nuovi a queste latitudini che stanno facendo campionato assolutamente di livello come rivelazione di questo torneo è ovvio che adesso arriva Taranto, Taranto che era partita molto bene adesso è in silenzio stampa a due punti in più rispetto alla pallacanestro viola operazione a gancio dicevi giustamente tu mancavano Barrile e Lazzari due rotazioni importantissime sicuramente il primo più del secondo per gli esterni Barrile ritornerà in campo per fortuna occorre il pubblico del pallacalafiore che tristemente è il dato che sta mancando specialmente nelle ultime giornate Sant'Antimo in primis quell'8 dicembre dove la gente andrà a fare shopping e in secondis ovviamente Monopoli dove chi non c'era si è perso la giocata dell'anno del 2021 indubbiamente perché secondo te c'è poco appello in questo momento rispetto alla pallacanestro a Reggio Calabria è un problema dovuto al Covid è un problema dovuto alla ripartenza di chiamarsi viola o cos'altro a tuo avviso? io sono un po' più critico secondo me Reggio Calabria è una città che vive di mode chiaramente il Covid è influito lo vediamo anche per quanto riguarda la regina la regina pre-Covid faceva 11-12 mila spettatori fissi a partire in serie C la regina post-Covid ne fa a 1006 mila in serie B quindi sicuramente il Covid ha influito ma io credo che Reggio Calabria sia essenzialmente una città che vive di mode una città che nel momento in cui in quel particolare frangente storico e non parlo anche solo legato ai risultati non è una questione di mera o risultato agonistico in quel momento quando quella squadra quel momento storico va di moda tutti fanno a gara tra virgolette ai biglietti per la viola, per la regina è successo per la viola negli ultimi anni di A2 in quell'annata in cui al palazzetto c'erano sempre quei 3.000-3.500 spettatori o Calbani, quella di Calbani esatto la viola di Roberts, la viola di Fabi quella era una viola che era di moda perché la gente veniva al palazzetto indipendentemente dall'avversario indipendentemente dal blasone veniva per vedere la viola veniva anche qualche anno prima io ricordo che la viola era oggetto di moda adesso chiaramente vuoi per la ripartenza vuoi perché comunque non si conduce magari anche un campionato di vertice che è sempre importante c'è una disaffezione ma come c'è una disaffezione in questo momento anche alla regina è evidente lo dicono i numeri quindi secondo me non è un discorso di è un discorso di città è un discorso che forse di città che in determinati momenti lo diciamo anche abbastanza apertamente dovrebbe dimostrare un pizzico di affetto in più verso quelle che sono le sue realtà sportive che spesso sono un grande traino anche a livello economico e sociale allora bisognerebbe il piccolo passaggio che dicevi tu secondo me è nato l'anno dell'arrivo di Giusva Branca con l'hashtag riprendiamoci la storia Delocce Rush e da lì la striscia che si è portata ovviamente nell'annate seguenti tra alti e bassi perché poi ci sono anche annate difficili vedi quella dove Vosquil mese un attimino le toppe a un po' tutta la situazione quindi Roberts, Pecker e Fabi quella è situazione figlia degli anni prima senza dubbio e prima ancora il tentativo di Operazione Simpatia riprovano i risultati al Botteghelle con Ciccio Ponticello perché la squadra vinceva giocava benissimo c'era Alessandro Piazza che sembrava il nuovo Massimo Bianchi quindi la gente ritrovava il Botteghelle come ai vecchi tempi e quindi i nostalgici ritornavano adesso la ripartenza l'Operazione Simpatia hai detto giustamente tu anche alla regina non è che la musica è diversa in scala perché poi il pubblico tra il calcio e la pallacanestro è chiaramente diverso che poi per carità secondo me tra virgolette la viola ha uno zoccolo più duro in percentuale rispetto alla regina la viola comunque passa tra virgolette dai 700-800 spettatori che vediamo adesso magari ai 3.500-4.000-5.000 la regina fa una proporzione molto più grande perché passa magari dai 3.000-4.000 ai 16.000-17.000-18.000 che fai in momenti storici in questo momento secondo me ne stanno andando tristemente massimo ma per essere buoni 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 500 con picchi di agrigento dove secondo me si sono sfiorati 800-800 anche 1000 c'è chi si diverte a contare le sedioline io ti dico che erano 800 non voglio fare il presuntuoso ti dico che con Avellino forse c'era lo stesso pubblico di agrigento giù di lì la gara di esordio per la curiosità come è sempre stato e quello che ovviamente l'opera di riflessione mia è società fatta dai tifosi quindi supporter trust serie B che non è un campione qualsiasi considerata la congiuntura economica attuale di Reggio Calabria squadra che sicuramente non è fatta di ragazzi che non hanno mai giocato in questo campionato perché durante è stato in betta la classifica l'anno scorso con Taranto per fare un esempio Clashar ha vinto seppur da comprimario gli ultimi due campionati e coppe incluse per fare due esempi quindi fondamentalmente non si capisce perché la gente non stia venendo al palazzetto risultati a parte perché poi hai ragione tu che dici la moda ma se poi la squadra vince è chiaro che tutti dicono ma io ci sono sempre stato io ero a Bibbo col freddo che magari non è vero però tocca un attimino capire il perché non sta andando la gente al palazzetto probabilmente è un momento anche dovuto alla congiuntura Covid dove la gente dice ma a me chi mi manda andare a rischiare in questo momento storico ieri è stato il compleanno della Regina è un momento importantissimo per tutta la comunità sportiva di Reggio Calabria si è sempre sognato il modello polisportiva fin dai tempi di Mimmo Barbero che voleva agglomerare pallavolo futsal eccetera eccetera però probabilmente la pallacanestro in questo momento in Italia sta subendo sorpassi forse inconsapevoli dagli altri sport tu che vivi a 360 gradi anche altri sport che ne pensi cioè è realmente indietro rispetto a pallavolo futsal rugby tennis eccetera eccetera ma io penso una cosa io penso che la pallacanestro parlo per gusto personale sia uno sport ancora più bello rispetto al calcio questo lo dico da giornalista che è nato seguendo il calcio e che poi è traslato al basket secondo me il problema del movimento è che forse si sceglie modelli sbagliati di investimento e che magari determinate piazze storie negli anni sono venute meno anche perché si è scelto questo modello storico io spesso in giro per l'Italia quando vado per telecronache ho incontrato diversi giornalisti di alcune piazze storiche del basket italiano e tutti mi hanno menzionato la viola ma cosa fa ma cosa non fa ha testimonianza che comunque una piazza come Reggio non è stata dimenticata nonostante manchi dalla serie A da 15 16 anni adesso non ricordo 2004 2005 se ci facciamo due calcoli siamo andiamo vicini ai 18 anni sì l'ultima è stata quella stagione scellerata che partì con la vittoria contro la Benetton di Blatt l'allenatore di Lebron James a Cleveland qualche annetto fa con la bomba di Giovacchini straordinaria che poi giustamente mi facevano notare quella vittoria lì che trovate anche su YouTube una telecronaca pazzesca di Gianni Agostino che dovrebbero trasmetterla ai master le cronache perché è qualcosa di irreale e meraviglioso anche lì ci fu prima la bomba di Harbrook nella posizione impossibile poi il canestro impossibile di Giovacchini modello Monopoli quindi prima canestro di Clashar e poi super canestro di Balic anche se lì è da campo a campo quindi è un po' diverso tornando al discorso piazze storiche è sempre stato così tu sei più giovane di me sì la viola porta con sé la storia perché aver avuto un campione NBA ai tempi l'ABA come Kim Hux Kobe Manu Ginobili Ugo Sconochini solo per fare qualche esempio random che ci viene ancora ero più giovane sì sono testimoni troppo importanti aver avuto allenatori come Gebbia Re Calcati Lino Lardo e Tonino Giorgi è chiaro che sono testimonianze pazzesche tanto che qualcuno sta pensando a fare qualcosa di importante che vi presenterò nelle prossime settimane ricordante la storia del mito Viola e proviamo a mettere un po' di accolina in bocca anche per ravvivare un attimino la situazione da Regino che giri insomma giri tanto per le tue delle cronache qual è il sogno in chiusura il tuo sogno personale relativo alle due società sportive principali di Reggio Calabria ovvero i colori amaranto e quelli nell'arancio dove le vorresti vedere e in che situazione societaria rispondendo a questa domanda ti dico che l'altro giorno mi è capitato la storia di un su Instagram di un ragazzo che pubblicava il match fra Milano e Tortona dal Mediolanum forum e dico wow una società come Tortona con cui noi ci siamo giocati il campionato con Roberts e Fabi oggi gioca al Mediolanum forum perché la Viola che ha una fanbase enormemente con tutto il rispetto per Tortona più grande rispetto a quella società lombarda può arrivare a giocare al Mediolanum forum con merito perché comunque Tortona sta facendo un campionato in Serie A fantastico quindi ti dico mi è venuta nostalgia anche di una semplice sfida al vertice in A2 con Tortona che secondo me non è così tanto distante dalle potenzialità per quanto riguarda la Viola per quanto riguarda la Regione io penso che sognare la Serie A sia bello bellissimo però bisogna anche stare attenti a preservare quello che si ha perché la Serie B non è poco sono passati pochissimi anni da quando abbiamo visto cosa vuol dire precipitare gli inferi sia con il calcio che con il basket io penso che è giusto sempre guardare a quello che il futuro può offrirti e può legittimamente e potenzialmente prospettarsi però occhio perché in questo momento il contesto economico è difficilissimo e che ti si sgredoli tutto sotto è sempre possibile quindi speriamo di vederle in Serie A e in Serie A1 però quello che va mantenuto è una dimensione nazionale di una certa rilevanza che per due squadre storiche la Regina e la Viola non può venire meno secondo me io da cittadino e poi provo a completare qualche considerazione riguardo le cose che ho appena detto opinione personale a parte mia io firmavo qui per 15 anni in Serie A2 o in Serie B per la Regina consecutivi rispetto a tre anni di Serie A su questo non c'è dubbio tornato al discorso e feci i premi di Tortona sì è vero quello che dici però quando c'erano quelle sfide contro Roberts e Pecker quando andavi a parlare di Tortona ti dicevano attenti che qui c'è uno sponsor che è in grado di andare in A1 e di mantenerla l'A1 poi c'è un merito incredibile di un allenatore emergente che si è fatto il mazzo tra virgolette nei campionati da la vecchia C nazionale in campagna come Marco Ramondino che è una persona prima di un allenatore incredibile magari non avrà fatto il giocatore modello Gianmarco Pozzecco ma ha studiato la pallacanesso per tanti anni e ha un merito importante poi rimanendo vicino a casa nostra tu parlavi di Tortona a Milano qualche giorno fa a Milano sempre in quel palazzetto giocava la Tonno Callipo che non è che sia così distante da noi serve sempre purtroppo o per fortuna il magnate di turno la sponsorizzazione grande che ti porti a quei livelli ma come è stata Panasonic Pfizer Opel ancora prima Banca Popolare e chi più ne ha più ne mette abbiamo avuto sponsor che oggi stanno scrivendo la storia dell'economia mondiale Panasonic sta stravolgendo il discorso dello smart working e del sponsor Pfizer ancora di più mi viene da dire forse ci stiamo arrivando cioè Pfizer prima l'ha stavolto per il Biagra per gli amanti delle risate e ce le possiamo fare adesso c'è un qualcosa di molto più importante il Biagra con tutto il rispetto perché insomma si tratta della si tratta della tranquillità e della salute del mondo quindi è un onore mandare quei video dove c'è Kevin Pritch la donna scritta Pfizer forse è un diritto di immagine di ritorno a distanza di 30 anni che sta tornando in auge adesso però è bellissimo detto questo ci teniamo questa serie B è un peccato che sia poco seguita sto parlando ovviamente di pallacanestro con la speranza che si possa riaccendere quella fiammella che sembra sopita clamorosamente aggiungerei Matteo io spero di venire al palazzetto compatibilmente con le tue avventure giornalistiche in giro per l'Italia ma spero anch'io l'auspicio è che invece quando giri per l'Italia ti dicono ammazza state facendo un super campionato magari ritornate come eravate sarebbe il passaporto migliore anche per te speriamo speriamo grazie mille buona serata ci vediamo prestissimo ciao Gio grazie a te a tutti quelli che ci hanno seguito portoreggio a canestro come Manu Ginopili come Ginopili